bella raga dal vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo nuovo video subito dopo questa breve premessa ci sarà un video una clamorosa notizia di calcio a mercato che riguarda il nostro amatissimo napoli un ringraziamento a tutti quelli che si stanno continuamente iscriviti al mio canale tutti quelli che non si sono ancora iscritti al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale e mettete un bel like a questo video sempre e comunque forza napoli ciao a io clamorosa ultima ora di calcio a mercato del nostro amatissimo napoli il messaggero annuncia adl paga la clausola ma non lascia un passer trasferirsi al napoli aurello de laurenti si è convinta a pagare la clausola rescissore di manolas difensore della roma costerà 36 milioni ed è l'ultima ora arriva da roma un ulteriore conferma della chiusura ormai imminente dell'affare manolas napoli con il difensore greco che ha già accettato l'azzurra tendeva la corda tra i due club il passaggio di manolas al napoli verrà quindi de laurenti spaga la clausola colpo di mercato arriva manolas perché stando a quanto rilevato dal messaggero il difensore ormai un passaggio trasferirsi in azzurro in questo calcio a mercato accordo totale col greco ingaggia i diritti di magia ma la novità è un'altra il quotidiano infatti fa sapere che de laurenti si è convinta a pagare la classe rescissore da 36 milioni di euro nell'operazione non saranno inserite contropartite anche se l'affare di avarà si farà resta slegato dal nome di manolas sareste molto contenti se manolas andasse a napoli sarebbe la difesa più forte del campionato manolas calidu colibali veramente una difesa fortissima che nessuno in serie a ha una difesa forte come questi due del napoli grazie a tutti grazie a tutti